E' stato iscritto nel registro degli indagati, il titolare della ditta boschiva di Ceraso, per la quale lavorava Leonte Basile. Il quarantenne è deceduto venerdì sera all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Martedì scorso era intento a tagliare un albero insieme ad un altro operaio, quando è stato gravemente ferito alla testa. E' arrivato all'ospedale in fin di vita e non ha mai ripreso conoscenza. Venerdì sera, il tragico epilogo. Il quarantenne è stato dichiarato cerebralmente morto, i carabinieri della stazione di Vallo con il maresciallo Salvatore Sergi, che stanno svolgendo le indagini, hanno denunciato alla Procura della Repubblica anche l'operaio, che ha materialmente tagliato il tronco, che ha causato la morte dello sfortunato operaio. Il sostituto procuratore Itri, che sta coordinando le indagini, potrebbe incardinare il procedimento con l'iscrizione nel registro degli indagati, anche per il secondo operaio, per concorso in omicidio colposo. L'incidente sul lavoro è stato scoperto solo grazie all'attività investigativa svolta dai carabinieri. I militari, infatti, non hanno creduto alla ricostruzione dei fatti fornita dai titolari della ditta, secondo cui il quarantenne aveva riportato le gravi ferite cadendo in aperta montagna. I carabinieri, coordinati dal tenente mennato Malgeri, hanno invece appurato che l'uomo di nazionalità rumena lavorava in nero per la ditta di Ceraso. L'attività investigativa dei militari prosegue per accertare quante altre operai in nero lavorano presso la stessa ditta, a cui è stata già sospesa ogni attività. Intanto la famiglia Basile ha autorizzato l'espianto degli organi. Nonostante il dolore per la perdita del loro caro, i familiari hanno voluto con questo gesto donare una speranza ad altre famiglie. Il cuore dell'uomo è stato tenuto battente fino a sabato mattina. Per prelevare polmoni, reni e fegato all'ospedale San Luca sono arrivate le equip degli ospedali Cardarelli di Napoli e Umberto I di Roma.